È stato presentato al Festival di Torino, poi come il precedente lavoro mio, la pazza la porta accanto, ha avuto una piccola distribuzione, quindi è stato in giro per tutte le città più importanti e ora sta facendo un tour anche di festival e quindi eccomi qua a Ortigia che a parte che posi di una bellezza fantastica e poi come sempre da una parte porto questo documentario che ci tengo molto per la gente veda perché è la storia in realtà del mio amico fotografo Luca Cusilla ma non è tanto che mi interessa la sua storia quanto la forma che ha preso il documentario grazie ad un testo scritto da Luca per cui a me è successo ma anche a vari spettatori di identificarsi, cioè non con la storia ma con lo stato d'animo di Luca e quindi è un film in qualche modo sociale, politico che io ci tengo particolarmente che venga visto e quindi ringrazio moltissimo il festival di Ortigia per avermi ospitato e poi siamo a Santa Marivella, girerò un po' perché ormai anche i festival rappresentano una piccola grande distribuzione per quelli che sono i fuori formato che però anche curiosamente trovano uno spazio distributivo dico questo perché come nel mio film il protagonista non si piange addosso neanche io voglio piangerne addosso e in una situazione dove i dati sembrano sempre un po' desolanti è anche vero che invece si inizia a distribuire in circuiti paralleli, piccoli, altri prodotti e secondo me quando si ritorna a una multitudine di pubblici e di prodotti è sempre una bella cosa sì, sono qui anche per la giuria dei cortometraggi e da una parte perché anche questo, essendo una persona che ha un po' di storia dietro le spalle mi capita di, sono stata accorta di donna, insomma di portare in giro il documentario e di essere anche uno sguardo verso diciamo un cortometraggio, documentario eccetera mi piace molto questa cosa perché da una parte ti impone di vedere quello che succede dall'altra parte ti pone in una situazione di essere, di giudicare quindi di giudicare con consapevolezza mentre consideri gli altri lavori in qualche modo ti metti dal punto di vista di quando tu sei un regista in particolare qui a Ottigia sono per il concorso dei cortometraggi che credo che sia veramente il prodotto più difficile da fare cioè la vita è sempre un po' paradossale si chiede ai giovani registi prima di fare un lungometraggio, di fare un documentario di confrontarsi col cortometraggio pensando che il cortometraggio sia la cosa più semplice del mondo a mio avviso è diciamo il prodotto più difficile più difficile perché è difficile sviluppare una drammaturgia, un sentimento e quindi a volte ti trovi di fronte a delle cose che vorrebbero ma non riescono detto questo ancora non lo dico rispetto alla sedizione di Ottigia che devo iniziare ancora a vederli e che comunque anche qui con l'ottimismo della volontà che in qualche modo mi muove e mi alimenta in tutti questi tour e queste giurie che ho fatto in questi inizi estate devo dire che il cinema sommesso, giovane, non ancora conosciuto al pubblico in questo momento è molto interessante, si muove in maniera autonoma e variegata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!